C'è stato un po' di riorganizzare e non perdere la testa? C'è stato un po' di riorganizzare e non perdere la testa? Poteva finire il pareggio anche quella. I tre punti non sono scontati, bisogna sempre dare il massimo per conquistarseli. Adesso andiamo su un campo difficile, veniamo comunque da una buona striscia di risultati positivi e consecutivi. Dobbiamo assolutamente ottenere il massimo anche domenica per cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica. Io dico che non dobbiamo guardare il Lecce perché quando ci è capitato di essere a due o tre punti a dicembre abbiamo avuto un periodo di appannamento. Non era dovuto solamente a quello, però forse quello ha pesato un po'. Quindi non dobbiamo guardare, dobbiamo guardare noi stessi. Ci sono sette partite e cercare di fare i più punti possibili. Ci siamo rimasti molto male anche noi, ne abbiamo parlato in spogliatoio, prendere un gol così in contropiede in casa in vantaggio è una cosa un po' strana. Non deve capitare, anche quando capita che siamo in vantaggio dobbiamo comunque mantenere la testa lucida e mantenere sempre un certo equilibrio perché purtroppo un gol può venire fuori in qualsiasi momento e domenica l'abbiamo visto. Però con la vittoria di oggi l'abbiamo messo da parte. Ha messo una bella palla felice, mi sono trovato lì e per fortuna è andata dentro. Soprattutto è stato un gol importante per portare a casa una partita che si era messa in una maniera non semplice. Siamo stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine. Adesso bisogna pensare subito alla partita di domenica e oggi ci siamo subito ripresi i punti che avevamo lasciato perché non era semplice. Sulla carta tutti dicevano che saremmo venuti qui e era la partita più semplice da affrontare ma queste qua sono le più difficili. Perciò dopo siamo stati bravi il secondo tempo a rientrare concentrati, secondo me più concentrati del primo tempo e l'abbiamo portata a casa. Una vittoria che ci dà ancora più fiducia nei nostri mezzi e dobbiamo continuare così. Ma in me scatta concentrazione perché come ti ripeto queste qua sono le partite più difficili. Perché giustamente loro entrano in campo e vogliono far bene, sono ultimi. Forse vogliono migliorare la loro classifica e la loro annata penso. Perciò non è che si fermano e ti regalano la partita. Oggi è stata la dimostrazione di una partita finita 1-0 in parte sofferta per come si era messa. Perciò in me scatta e penso anche nei miei compagni concentrazione per far sì di renderla facile ma dobbiamo essere bravi noi ad approcciarla in una certa maniera. Ma no, io con le due punte mi trovo molto bene. Poi abbiamo cambiato diversi moduli però cerchiamo di adattarci al modulo che ci chiede il mister. Perché qua non possiamo permetterci di pensare a giocare con una punta o due punte per noi. Perché noi non possiamo sbagliare, dobbiamo arrivare fino alla fine senza mollare per poi fare i conti alla fine. Perciò quello che ci chiede il mister dobbiamo fare. Una, due, due punte, quattro e tre. Perciò ci dobbiamo adattare. Siamo in ritiro, perciò da stasera andiamo in hotel. Domani iniziamo subito a preparare la partita e come abbiamo fatto sempre fino ad ora scendiamo in campo per portare a casa più punti possibili. Perciò ci sarà il massimo impegno e sappiamo che è difficile soprattutto perché è la terza partita in sette giorni. Però la concentrazione deve essere massima proprio perché sappiamo che è la terza partita e se c'è un po' di stanchezza, Rosa è lunga, dobbiamo portare a casa uguali più punti possibili.